ciao bestiodine tra l'altro sempre senza flash iniziamo il video perfetto allora oggi video spesa video spesa un po diverso infatti non sono andata da aerospin ma sono andata da pozzoli e dal mio nuovo migliore amico anche detto il verduraio bangladino del paese vicino allora iniziamo subito con il pozzoli ho speso 15 euro e 0 2 centesimi anche se in realtà 2 euro erano di roba di mia madre fa niente allora ho preso questi due snack uno al latte e l'altro al cacao e gli ho pagati 1 euro e 39 sono molto buoni quindi ho preso 1 e 2 kg di zucchero che era in offerta a 49 centesimi quindi ne ho approfittato poi ho preso delle olive perché oggi voglio fare la focaccia della barese invece nel frasco ho preso del branzi e del casera se non sbaglio e non c'è scritto qua perfetto ho preso della macinata che era in offerta 2 euro 90 al chilo e con questa vado a fare delle polpettine visto che come sapete io faccio la spesa verso un pezzo di macinata perfetto dicevo io vado a fare la spesa di carne con la grossa due massimo tre volte l'anno vado al d'ambros dopo di che porziono il tutto e pare sia posto anche perché comunque la carne la mangia solo lui in casa poi il mio amico verduraio il mio nuovo amico verduraio allora questi ho dovuto per forza prendere un sacchetto singolo perché non venivano a 99 centesimi dei cornecini che ho intenzione per farmi in settimana da portarmi lavoro per pranzo un'insalata di cornetti carote e patate elesse qui invece abbiamo dei peperoni che l'altra volta erano davvero 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 buoni poi quattro cipolle bianche e dei pomodorini sempre per la la focaccia barese sia questi che le cipolle che avevo finito mai finire le cipolle in casa marcia mannaggia sta plastica poi ho preso anche due belle melanzane un ceppo di insalata tre belle un casco di banana un caschino un caschetto di banane dei peperoni a sigaretta da fare al forno e un bel po' di limoni perché devo fare il detersivo per i piatti adesso sistemo un attimo vi faccio una panoramica e poi vi dico quanto ho speso questa volta eccoci qui questa è tutta la mia spesa verdurosa e questa volta pagato un pochino più rispetto all'altra volta pagato ben 6 euro e 70 però come potete vedere è tutta roba bella l'altra volta comunque avevo cucinato subito tutto è veramente buona in più ho scoperto che tutta questa verdura arriva da un'azienda agricola che sa tipo a due paesi di distanza dal mio quindi è anche abbastanza chilometro zero come cosa niente io vado a cucinare ciao ciao